Per chi fa sport è necessario assumere durante il giorno il giusto apporto proteico una fonte pratica e gustosa e senza dubbio il tonno in scatola il mio preferito è il tonno rio mare super naturale un tonno gustoso al naturale perché contiene solo una goccia d'acqua è perfetto per fare il pieno di energia dopo ogni allenamento